Matteo Forzatti, siete alle fasi nazionali, avete vinto i play-off, state festeggiando con i vostri tifosi, che emozione stai provando? Emozione unica, emozione unica. Io l'ho capito fin da subito, da quando sono arrivato qui a dicembre, che questo gruppo era in grado di fare molte cose, sia per le note tecniche e tattiche, ma soprattutto per il cuore che ha, come lo ha il paese, i tifosi, la società e quindi ce lo meritiamo. Però oggi non soltanto il cuore, avete visto tanta qualità che avete giocato dall'inizio? Tanta qualità, abbiamo interpretato benissimo la partita, siamo stati calmi quando dovevamo, abbiamo spinto quando potevamo e siamo riusciti a portarla a casa. Ci hai messo anche tu lo zampino, nel secondo tempo una doppia parata sul Chelo e Sabino? Sì, dovere, niente di... sono qui per questo, va bene così, niente di speciale. Senti, che cosa qua stai provando in questa nuova realtà? Tu che arrivi da Castiana, sei svoltato la stagione. Sì, sto provando cose uniche, una tranquillità incredibile, la società ti permette di lavorare bene, di essere tranquillo e guarda, non ci sono parole, lo staff è spettacolare, i compagni di squadra incredibili, quindi emozioni uniche. Avevi già il biglietto per tornare a casa? No, io avevo fiducia, non ho fatto nessun biglietto, dico vabbè, aspettiamo. Quindi ci saranno almeno altre... 15 giorni, 15 giorni, più 15, più 15 giorni sicuro, e poi vediamo. Grazie a tutti. Grazie.